Riqualificazione di strutture pubbliche attualmente dismesse a Campobasso. Fanno discutere i contenuti del bando che dovrebbe finalizzare gli importanti interventi. Vediamo. Fa sempre discutere il bando del mercato coperto di Campobasso. Non pochi gli interrogativi sollevati, il destino della scuola notte di via Sant'Antonio Abate, oltre 2 milioni di euro, il rilancio funzionale strutturale del mercato coperto di via Monforte, circa 10 milioni di euro, e la riqualificazione dell'ex mattatoio di via Garibaldi, di circa 2 milioni di euro, ha fatto aprire profondi dubbi sull'esito del bando stesso. Manca infatti la volontà di rendere il mercato coperto una sorta di volano economico, un centro polivalente, un polo di aggregazione, a vantaggio di tutta l'area urbana murattiana. Il pensiero non deve andare lontano per ricordare che lo stesso progetto, lo stesso obiettivo, lo stesso scopo e la stessa volontà sono appartenuti all'imprenditore Mario Di Biase, l'ideatore della città nella città di Corso Bucci, e che l'amministrazione di Palazzo San Giorgio fece di tutto per dissuaderlo. Nel complesso edilizio di Corso Bucci il comune detiene, a parziale conguaglio degli oneri di urbanizzazione, la proprietà di una struttura finalizzata ad auditorium, ma adattabile ad altri scopi ricreativi e culturali, ma non ha la capacità di farne alcunché. E il rischio oggi, per la struttura che fu quella del mercato coperto, è di avere un'opera non rispondente a nulla e per giunta senza sapere se sarà antisismica.